se ci fosse una battaglia di quelle che combatti e hai combattuto per la quale vorresti essere ricordata una sola quale sarebbe, qual è quella più importante? o l'aspetto più importante per cui ti sei battuto? ma non è difficilissimo è vero, perché poi dopo che arrivano dopo chi dico la sciamenza più due, è vero veramente non è una domanda a cui posso rispondere perché per me nessuna delle battaglie, delle lotte a cui ho preso parte aveva un aspetto cioè appunto ho preso parte a tante cose proprio perché non ho mai voluto scegliere uno poi è chiaro che magari ognuno ha l'energia che ha si occupa di una cosa alla volta anche per imparare ci vuole del tempo quindi chiedermi e rispondermi adesso senza tornare a fare così a puzzecchiarci su tab e no tab però appunto chiedermi le ragioni di quella faccenda ho impiegato del tempo ecco a capire effettivamente come ne ho impiegato ancora di più a cercare di capire il confrarismo democratico che è qualcosa di cui ancora studio ho impiegato ho scelto tanti anni fa una postura femminista e transfeminista del mondo per esempio quella cos'è sia una battaglia nel senso che magari ha delle istanze specifiche ma è anche un modo in cui ho scelto di abitare la mia vita quindi non c'è un aspetto particolare per cui vorrei ad oggi ecco se finisse domani poi non so che succederà poi però sicuramente se mi chiedi una delle cose di cui sono più orgogliosa nella mia vita oddio scusa ho toccato il microfono beh unirmi alle L'EPG sì è qualcosa che rifarei sempre io quello che vorrei si dicesse di me se me ne vado domani è che non mi ha tradito la gente mia grazie per aver guardato questa clip su questo canale youtube ne trovi molte altre provenienti dalle live da video vari e soprattutto dal podcast iscriviti per non perderteli grazie inoltre a Tridom che ha sponsorizzato il podcast e che per l'occasione ha creato un albero ad hoc che si può ottenere soltanto sino alla conclusione della stagione 2 del Breaking Italy Podcast per ottenere questa versione speciale di una pianta di caffè che verrà piantata in Ecuador per aiutare le popolazioni locali e combattere la deforestazione trovate un link in descrizione